Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi, 19 marzo, festa di San Giuseppe e allora noi oggi vogliamo dedicare questa nostra puntata in particolare a un Giuseppe perché esattamente 30 anni fa, era infatti il 19 marzo 1994, Don Peppe Diana mentre si preparava in sagrestia a celebrare la messa a Casal di Principe nella sua parrocchia di San Nicola di Bari venne brutalmente ucciso dalla camorra, aveva 36 anni. Quel giorno è impresso in maniera indelebile nella memoria, direi nel cuore di Don Maurizio Patriciello che è stato tra i primi ad accorrere e che ci rende questa testimonianza. Di quel giorno ricordo tutto, era un sabato mattina e una telefonata arrivò inaspettatamente, ricordo le prime parole di questa persona che mi chiamava, Maurizio abbiamo il primo martire in diocesi, hanno ucciso Don Peppe Diana. Presi la macchina e scappai subito a Casal di Principe, convinto però che avessero già tolto Peppino dal luogo del delitto. Il poliziotto che stava fuori alla porta della chiesa lasciava passare solamente i sacerdoti, le altre persone venivano fermate e così entrai convinto proprio di trovare solamente qualche mio confratello e invece fu una scena terrificante che da quel giorno non ho dimenticato mai. Peppino stava là, riverso nel suo sangue, ricordo il volto del vescovo, il colore era bianco come la tovaglia dell'altare. Ci disse solamente preghiamo, preghiamo e così smarriti, impauriti, rimanemmo a pregare in silenzio intorno all'altare. Con la morte ho confidenza perché ho lavorato in ospedale per dieci anni e quindi con la morte ho avuto tante tante occasioni di incontrarmi e anche di scontrarmi. Avevo già visto altre persone ammazzate, le avevo anche già viste, però Peppino era Peppino, Peppino era un mio confratello, Peppino era un prete della mia stessa diocesi. Il giorno dopo era domenica, cominciamo a scrivere ai primi striscioni, Don Peppino come il vescovo Romero, come Don Puglisi, sei mesi prima avevano ucciso Don Puglisi. Fu una preghiera così dolorosa, ma anche tanti interrogativi, tante domande, sapevamo già tutti quanti che era stata la camorra. Immediatamente nessuno aveva il minimo dubbio. Dopo 30 anni dalla morte di Peppino e quasi 31 dalla morte di Don Puglisi, tante risposte ce le siamo date, altre dobbiamo ancora arrivare a darcele. Ho la scorta ormai da due anni perché manca a farla apposta, la piccola bomba che fecero brillare davanti alla parrocchia fu proprio piazzata nella notte del mio compleanno. Ancora una volta tornano queste date terribili, no? Don Pino il giorno del suo compleanno, Don Peppino il giorno del suo nomastico. Ho visto tanta sofferenza, ho visto un territorio veramente inginocchiato, bistrattato, umiliato, avvelenato. Se avessi taciuto sarei diventato complice. Nella mia vita, dietro ogni decisione, dietro ogni parola, proprio Peppino mi guardava con un rimprovero, ma avrebbe guardato con un rimprovero. Non sarei stato non solamente degno del Signore, ma neanche degno dell'amicizia di Don Peppino Diana. È una testimonianza toccante, intensa, che spalanca una profonda riflessione, quella resa da Don Maurizio Patriciello, da una riflessione che facciamo con i nostri ospiti, a partire dal direttore Marco Tarquinio, firma autorevole del nostro giornalismo, che è tornato qui in presenza. Marco, direttore, un piacere averti. Grazie, è una gioia di essere qui. Grazie davvero. È collegata con noi Daniela Marcone, vicepresidente di Libera, valadere la rete di associazioni, di cooperative sociali, di movimenti, di diocesi, di parrocchie che sono impegnate in difesa della giustizia e contro le mafie. Bentornata Daniela. Grazie, grazie. Buonasera a tutti voi. Allora, buonasera. Allora, direttore Marco, Don Patriciello lo ha ricordato adesso, lo ha fatto anche dalle colonne di Avvenire Oggi, ma insomma lo fa continuamente, che sei mesi prima della morte di Don Peppe Diana un altro Giuseppe è stato barbaramente ucciso, Don Pino Pugliesi, parroco di Brancaccio. O tre P, padre Pino. Esatto, esatto, le tre P. Perché? Perché, direttore, questi sacerdoti dovevano essere messi a tacere, davano così fastidio alle mafie? Perché, come diceva Don Peppe, non tacevano per amore del proprio popolo e per amore di Cristo contendevano a uno a uno, soprattutto i piccoli, alla mala vita, alla vita cattiva delle mafie. Lo facevano da preti, lo facevano da uomini del loro tempo, da cittadini. Don Peppe era anche uno scout come me, eravamo la stessa età, siamo del 58 tutte e due, mi sono chiesto tante volte se ci fossimo incontrati in qualcuno degli incontri nazionali. Ho conosciuto dopo quelli che erano stati generati dal suo ministero, dalla sua azione. Consentino di ricordarne uno che non c'è più, Vincenzo Taglione, uno degli scout di Don Peppe, che è stato il motore di tante delle cooperative che sono state generate dal suo sangue, dalla sua testimonianza, che hanno reso viva, ancora più viva, la parte resistente della società di Casal di Principe, che non è solo i casalesi, ma gli altri casalesi, quelli veri. C'è infatti tutto un'eredità potente che siamo chiamati a raccogliere, ma tra poco ne parleremo. Andremo anche, Marco, a Casal di Principe. Diciamo che in generale, qui ampliamo un po' il contesto della riflessione, la Chiesa che è accanto è più vulnerabile, è più fragile, è diseredati, è sempre, Don Maurizio Patricelli ha citato anche il Vescovo Romero tra i martiri. È sempre una Chiesa che dà fastidio. Eh sì, a volte anche a se stessa. Io lo devo dire, per onestà, ci sono stati anni in cui nessuno andava a pregare sulla tomba di Don Peppe. E bisogna essere molto grati al Vescovo Angelo Spinillo, che prima di entrare in diocesi, il primo gesto che fece fu quello di andare sulla tomba di Don Peppe, quando era ancora Vescovo eletto di Aversa. E fu un gesto bello e importante, perché ci sono stati anni come di imbarazzo dopo quel sangue versato, perché l'eccesso d'amore di Don Peppe sembrava troppo, forse. Eppure, come ripeto, era solo l'inizio. Ricordiamoci perché, ripeto, quello che sta accadendo adesso è frutto anche poi di un saper valorizzare ciò che Don Peppe aveva testimoniato fino in fondo, senza reticenza, senza esitazione. Guardavamo a questa chiesa che combatte nel mondo, ed è importante farlo, Daniela, anche perché occorre ricordare, non solo per questa ragione, ma occorre ricordare che le mafie, e quel plurale sempre d'obbligo, sono ormai capaci di oltrepassare ogni confine, di costruire potenti alleanze, stendono i tentacoli su guadagni, terre, terreni, e lo fanno sempre con lo stesso metodo. Daniela. Sì, le mafie oggi sono molto forti, anche se a mio parere estremamente sottovalutate, e sono ovunque, sono nel mondo, sono nel nostro paese, sono in luoghi in cui non ci si aspetta che siano. Mentre c'è questo stereotipo narrativo, se possiamo chiamarlo così, per il quale le mafie sono solo in alcune regioni d'Italia, ad esempio, e non al nord, o comunque non sono in alcune parti del mondo. Hanno la capacità di capire come si muovono i flussi finanziari e a mio parere, a nostro parere, da quelli che sono i nostri approfondimenti come rete associativa, hanno una capacità di studio e di approfondimento tale da avere delle competenze che gli permettono anche di investire in quelli che sono gli aspetti, negli ambiti economici più fruttuosi. Ecco perché per contrastarle occorre una potente alleanza che saldi la società civile e le istituzioni, anche di questo parleremo, mentre vado subito dal nostro Simone, Simone Lombardo, per coinvolgere chi ci sta seguendo. Gabriella, il ricordo di Don Peppe Diana è talmente forte che hanno iniziato i nostri telespettatori a scriverci già da ieri, già nei giorni scorsi, e ne approfitto dunque per condividere con tutti voi un messaggio che arriva da Silvana che ha voluto ricordarci l'impegno di Don Peppe Diana al fianco degli scout, i fular bianchi. Don Peppe ha sempre indossato il fazzolettone bianco, scrive, con impegno e coraggio. È stato il nostro assistente nazionale dal 1991 al 1993. Ora tocca a noi, dobbiamo andare avanti e continuare il suo impegno come lui ci ha sempre spronato a fare. Questo è solo uno dei messaggi, ma adesso appunto aspettiamo i vostri. Perché? Perché il nostro numero whatsapp si è attivato, 348-3070-345, scriveteci lì, oppure attivi ci sono, lo sapete, tutti i nostri social e una mail di redazione. Grazie, grazie Simone. Sì, è quell'impegno scoutistico, la vicinanza è più giovane, qui accennava poco fa anche il direttore Tarquinio. Sono passati 30 anni, da quel 19 marzo 1994, in cui il sangue di Don Peppetiano abbagnò l'impiantito, il pavimento della sagrestia della chiesa di San Nicola di Bari. Il vescovo di Acerra durante le secue disse è morto un prete ma è nato un popolo, perché ne scaturì un veramente un grande moto di popolo, una progressiva, potente presa di coscienza. E la comunità di Don Peppetiana in questo tempo è cresciuta. Oggi lì è stato un autentico giorno di primavera, ma ce ne parla Luigi Ferraiolo che è collegato con noi proprio da Casal di Principe. Ciao Luigi, a te. Ciao Gabriella, sì, hai detto bene. Don Antonio Riboldi disse che era nato un popolo, un popolo però ci ha messo tempo per affermarsi. Quella mattina di 30 anni fa la piazzetta davanti alla chiesa di San Nicola era vuota, i balconi erano vuoti, le tapparelle erano abbassate, non c'era nessuno se non i sacerdoti e il personale dell'azienda funebre. Don Peppet era lì per terra da solo. Oggi dopo 30 anni la chiesa era grimita, la piazzetta davanti alla chiesa di San Nicola era grimita, i balconi erano pieni di gente, le finestre erano aperte, le tapparelle alzate. E questo è l'immenso miracolo collettivo compiuto dal sangue sparso di Don Peppe Diana. Questo vi racconteremo qui da Casal di Principe e la grande eredità che ci ha lasciato. Quindi ritornate con noi dall'inno allo studio. Grazie Luigi e torneremo subito dopo la pubblicità lì per vederla questa folla e tanti giovani che hanno veramente reso questa una giornata di primavera in ricordo di Don Peppe Diana e della sua eredità che è tanto viva e vitale. Quindi andiamo brevemente in pubblicità poi torniamo subito in studio. Eccoci, eccoci, rientriamo in studio, siamo noi e oggi dedichiamo questa giornata di San Giuseppe a Don Peppe Diana che esattamente 30 anni fa veniva ucciso nella sua parrocchia di Casal di Principe. Alle sette e mezza del mattino si preparava a dire messa. Come vi abbiamo promesso andiamo subito a Casal di Principe da Luigi Ferraiolo che ci racconta la giornata, le ore che lì si stanno vivendo, ricordando e raccogliendo l'eredità di Don Peppe Diana. Luigi. Sì, la giornata è stata intensa, emozionante. C'era una marea di persone, una marea di ragazzi che poi dalla chiesa di San Nicola è partita in corteo, ha attraversato tutta la città ed è arrivata fino al piazzale Antistanti, il cimitero. E lì venivano ricordati a viva voce dal palco i nomi di tutte le vittime di mafia. E poi c'è stato il sindaco Renato Natale all'ultimo anno di amministrazione che 30 anni fa era sindaco e poi la camorra voleva uccidere, come aveva ucciso Don Diana, lo voleva uccidere con la beffa di un immigrato che l'avrebbe buttato sotto mentre andava in bici a curare altri immigrati nel suo ambulatorio di Castelvolturno, poi riuscirono a far cadere l'amministrazione. E poi è stata una festa, una festa incredibile che nessuno si aspettava, così come i messaggi del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi e di papà Francesco. A Casal di Principe è stata una giornata di gioia, di rinascita. Ma l'eredità di Don Diana vogliamo raccontarla in una maniera diversa dal solito, quella dei beni confiscati, riutilizzati, dell'economia civile che è stata creata, ricreata e resa condivisa qui e ha dato la possibilità alle persone di avere la schiena dritta e forte. Qui con me c'è Pasquale Corvino che è il presidente dell'ANCO, un gioco di parole, però facciamo raccontare tutto a lui. In questo luogo, che è un ristorante solidale, lo scorso anno venne a pranzo anche durante la sua visita a Casal di Principe per rendere omaggio a Don Peppediano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che cosa significa l'ANCO e soprattutto che cosa c'era 30 anni fa e che cosa c'è oggi? Cosa è cambiato? Cosa deve cambiare? Allora, 30 anni fa era un paese molto diverso da quello che è oggi. Ma bisogna andare anche più indietro alla nascita della nuova camorra organizzata, la metà degli anni 70 e che significava nuova camorra organizzata, questo era l'acronimo NCO, che col passare degli anni e facendo un gioco di parole noi abbiamo fatto diventare nuova cucina organizzata, ma comunque quelli erano anni difficili, anni di sovraffazione, di violenza. Qui c'è stato l'attacco diretto al cuore dello Stato. Qui c'è stata la sovraffazione di clan camorristici violentissimi, qui è scorso sangue, qui sono state vittime in maniera proprio sequenziale. Sono stati anni bruttissimi, difficilissimi. E adesso? Adesso è un livello completamente differente. Si è ricreata una certa fiducia nella città, nella comunità, ma è un percorso iniziato proprio 30 anni fa, con la morte di Don Peppino. È iniziato un lento, lento, lentissimo processo, ma comunque un processo che oggi ha restituito alla collettività fiducia, speranza, capacità di guardare al futuro, voglia di guardare a un futuro diverso. Ha rigenerato innanzitutto le menti di questa collettività e lo avete visto oggi con tanta gente anche di Casal di Principe. Non c'erano solo le scuole che venivano da fuori, c'erano anche gli studenti di Casal di Principe, le famiglie di Casal di Principe, i cooperatori sociali di Casal di Principe, quelli che in questi ultimi anni si sono dedicati alla costruzione di un'alternativa anche economica e culturale alla economia criminale. Perché, come dice una maglietta qui da voi, panza chiena, camorra vacante. Cioè, se c'è il lavoro, la camorra non ha spazio. Noi ringraziamo la NCO e Pasquale Corvino e restituiamo la linea allo studio, ma rimaniamo qui a raccontare tutta la giornata di Don Peppe Diana. Grazie davvero Luigi e grazie al tuo ospite. Direttore, Marco, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, qualche ora fa ha definito Peppe Diana simbolo potente di liberazione, liberazione delle coscienze, della società. Abbiamo visto quello che può rinascere anche dei beni confiscati alla mafia. Ci viene consegnata un'eredità importante, ma tutti i problemi non sono risolti e quell'eredità è una responsabilità. Sì, è un cantiere aperto, permanente, la libertà e la dignità delle persone, no? E io credo che Casal di Principe sia importante per questo, perché è una prima linea. Quando sono stato lì la prima volta mi hanno portato anche all'NCO a cena. Dico sempre che in otto ore mi hanno fatto ripercorrere anni di reportage di avvenire, quelli che Tony Mila aveva fatto per avvenire, eccetera. E la cosa che mi ha colpito tutto mi è rimasto dentro, perché i frutti si riconoscono, fanno riconoscere gli alberi, no? Gli alberi si riconoscono dal frutto. Ma la casa di Sandokan, divisa a metà, li capisci che il male e il bene convivono e il bene ha la forza di affrontare il passato che non vuol passare e può cambiare il futuro anche di quelli che sono gli eredi di quella storia. Perché è divisa a metà quella casa. Da una parte abita la famiglia che resta di Sandokan e del boss schiavone. Dall'altra parte, con un muro di cemento armato fatto dalla questura, c'è un'associazione, un lus, che si chiama La Forza del Silenzio. Due mondi opposti, l'uno di fronte. Che si occupa di bambini autistici, che arrivano anche da tutta Italia per fare attività utili a loro. È preseduto da un poliziotto, questa associazione, questa ONG, ed è una cosa bellissima, è dentro la rete di Libera. Liberare pezzi di territorio, diceva benissimo prima la vicepresidente, la mafia ha altro, la camorra è altro anche. Però togliere gli unghioli di questa bestia dal territorio significa poi liberare tanti percorsi nella vita delle persone e dentro la nostra economia. Daniela Marcone, lottare per liberare il territorio da quello che cresce e si diffonde come un cancro, mantenere la schiena dritta anche a costo del sacrificio delle vite, è quello che è accaduto a suo padre, a suo padre Francesco Marcone, che dirigeva l'ufficio del registro a Foggia e che il 31 marzo del 1995 è stato ucciso mentre rientrava a casa con la borsa della spesa che aveva fatto in macelleria. Perché suo padre è stato ucciso? Che cosa ha avuto il coraggio di fare e di dire? Oggi è la festa del papà, è anche la festa del papà, e quindi è una giornata giusta per ricordarlo, come per ricordare tutte le vittime, come faremo tra un po', tra qualche giorno. Però mio padre, in due parole, era una persona onesta, una persona coerente, che amava la sua terra e il suo lavoro. Ed è in virtù di questo suo modo di essere, probabilmente un modo di essere normale, che ha denunciato, ha denunciato delle truffe ai danni dello Stato, credeva molto nel suo ruolo di dirigente dello Stato, del Ministero delle Finanze, e quindi lì dove ha individuato delle truffe, le ha denunciate, consapevole che lo Stato siamo noi, come ci ripeteva continuamente quando eravamo ragazzi. e quindi questa sua scelta, questo suo essere onesto, coerente, appunto con i propri valori, in una città come Foggia gli è costato la vita. Negli anni in cui si uccideva, venivano uccise le persone che erano di ostacolo alla criminalità organizzata, come è successo a Don Peppe Diana, come è successo a mio padre. Daniela, un delitto, peraltro, se non sbaglio è rimasto impunito, questo ci indica un po' il pezzo di strada che resta da fare, che è ancora considerevole. Beh sì, dopo tanti anni in realtà tendiamo ancora delle risposte e continuiamo ad avere fiducia nella magistratura, negli organismi inquirenti, però è faticoso, è faticoso vivere con questa eredità di memoria che non ha una risposta di verità e giustizia, consapevoli che in Italia un diritto alla verità per gli esseri umani deve essere ancora scritto e sarebbe molto importante scriverlo. Grazie Daniele. Allora noi ci ritroviamo tra qualche istante, andiamo in pubblicità, ma veramente brevemente e poi riprendiamo questo nostro cammino, questa nostra riflessione in studio. Stiamo ricordando Don Peppe Diana, questo uomo, questo sacerdote coraggioso davvero aderente al Vangelo che è stato brutalmente ucciso esattamente 30 anni fa, 19 marzo del 1994 ed è appunto una data che non dobbiamo, non vogliamo dimenticare e anche per questo sulla nostra emittente, su TV 2000, questa sera verrà trasmesso il documentario l'altra parola di Don Peppe Diana in cui Don Peppe ci viene restituito attraverso le testimonianze, le voci degli amici, dei familiari, ma anche dei magistrati, sentiremo Federico Caffiero Derao, Raffaele Cantone, della Chiesa e dunque il Vescovo di Aversa, il Vescovo di Caserta, sentiremo Don Luigi Ciotti. Ve ne proponiamo un piccolo estratto. Pensavano di metterlo a tacere e invece gli hanno dato più parola, più parola. Siamo qui a parlare, ha moltiplicato quelle parole, parole ancora più forti, è vivo, sono vivi, non se ne sono andati, sono presenti, sono presenti, sono più presenti di prima. Qualcuno ha cercato di metterci, di metterci delle etichette, preti antidroga, preti antimafia, preti di strada, ma che preti di strada, no? Noi dobbiamo fare strada, camminare, camminare insieme, con la gente, certo, ma preti sono preti, basta. Don Diana era un credente e ha lottato per amore della sua fede, ma per amore quindi delle sue convinzioni e per amore del popolo. Martire di Cristo per amore del popolo. Un po' come tutti coloro che vivono intensamente e impetuosamente, possiamo dire, per certi aspetti io oggi lo sento come come un segno di contraddizione. Lui non lotta per distruggere l'altro, ma lotta con forza, con capabilità e con il desiderio di ritrovarsi insieme su una via appunto di conversione, una via migliore. Vado subito dal direttore Tarquinio perché Marco, voglio raccogliere quella sottolineatura che ha fatto Don Luigi Ciotti che poi è la stessa che Don Maurizio Patricielli fa su Avvenire questa mattina. Non preti antimafia, anticamorra, antidroga, preti semplicemente perché questa è l'aderenza al Vangelo. E preti sulla strada, in mezzo alla gente, con la gente, nella direzione giusta e questo è quello di cui c'è bisogno e dà molto fastidio a quelli che vorrebbero che i preti fossero contro e basta, no? Io so che figure come quelle di Don Peppe e Diana sono vive prima di tutto perché le sue opere sono vive e quindi non sono riusciti a cancellare il seme che aveva piantato e poi perché continuiamo a ridire il suo nome. Quelli che ammazzano tutti, il papà della vicepresidente, tutte le vittime di cui gli amici di Libera invitano almeno una volta all'anno a ripetere tutti i nomi. Come facciamo noi credenti con le litanie dei Santi o quando ricordiamo i nostri morti? Perché non muoiano? Per non dare ragione a quelli che li volevano cancellare. Ogni volta che ridiciamo il nome è la sconfitta di quelli che li volevano cancellare. Ricordiamocelo. Vado da Daniele a Marconi perché Libera ha scelto un bellissimo giorno per ricordare tutte le vittime innocenti di mafia ma anche per dare impulso e slancio alla lotta contro le mafie all'impegno per la giustizia il primo giorno di primavera. Questa giornata che porterà tante persone verso la capitale come sarà scandita? Il 21 marzo appunto il primo giorno di primavera è la nostra giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quando dico nostra intendo di tutti noi non solo della rete di Libera perché giornata nazionale riconosciuta con legge dello Stato dal 2017 e sarà scandita da un inizio di corteo che partirà da Piazza dell'Esquilino penso intorno alle 9 però il ritrovo ci sarà già dalle 8 e quindi sul sito di Libera si possono trovare tutte le indicazioni e questo corteo si snoderà appunto per le vie di Roma e raggiungerà al circo massimo. una volta raggiunti il circo massimo lì inizierà la lettura delle 1080 vittime innocenti di mafia che appunto i cui nomi verranno scanditi verranno letti con attenzione e con cura da tante persone giovani ragazzi ma anche i familiari di vittime innocenti di mafia che arriveranno a Roma già da domani in cui ci sarà l'assemblea nazionale dei familiari e subito dopo la veglia e poi in conclusione il 21 le conclusioni di Don Ciotti lì dalla piazza che chiuderanno l'iniziativa ci stanno scrivendo in tantissime quindi Simone io vengo da te sono tante le testimonianze che arrivano Gabriella le stiamo raccogliendo c'è chi scrive le mafie come al nord come al sud crescono nei luoghi dove c'è avidità invidia il desiderio di profitto e poi Maria Antonietta ci dice una grande tristezza ma anche una grande speranza Don Peppe è stato un chicco di grano col tempo ha dato tanti frutti e l'eredità è importante è una responsabilità grande che dobbiamo fare nostra e poi Lillo Don Peppe Diana ha portato avanti le sue idee con fede e coraggio un amore per il popolo è vero ma anche per la legalità quella luce vera che riempie i cuori di entusiasmo e chiudo con Maria davvero potente la testimonianza di Don Maurizio Patriciello Don Peppe Diana ha lasciato un segno indelebile e un messaggio chiaro alle nuove generazioni grazie Simone grazie a tutti voi direttore a me non è sfuggito che all'inizio Daniela Marconi quando ha iniziato a parlare utilizzando questo plurale mafie abbia detto anche le mafie sono ancora troppo sottovalutate noi oggi stiamo ricordando delle vittime di mafia questo non ci deve portare a pensare che la situazione non sia ancora molto grave perché Don Maurizio Patriciello è sotto scorta ci sono stati gravi episodi di intimidazione anche molto recenti in Calabria allora voglio chiederti da un lato c'è stato un cammino innegabile una presa di coscienza un impegno anche molto diffuso tra i giovani però dall'altro parallelamente c'è un'eguale sensibilità da parte delle istituzioni della politica ma io voglio sperarlo sono in tanti a condividere a parole la stessa tensione contro il radicarsi delle mafie che hanno cambiato pelle non fanno soltanto gesti plateali secondo come è stato ricordato dal Presidente secondo le modalità tipiche delle cosche malavitose sono parte dei sinedri della finanza irresponsabile hanno investito lontano dal clamore e vicino ai grandi interessi che non si possono toccare ed è meglio non guardarli troppo ricordavi tu stessa Gabriella che al nord hanno una presenza o lo ricordava la Presidente lo ricordo hanno una presenza che sono un sistema bancario parallelo che non solo avvolge le imprese ma le infetta e poi le conquista le trascina sono anche quei colletti bianchi più limitizzati bisogna saper vedere la complessità di questa trama perché sono fatte moderne ma guastando la nostra modernità e scegliendo gli aspetti deteriori del sistema che abbiamo costruito per questo bisogna fare anche un'altra economia perché l'economia come intendiamo noi come è stata evocata prima da Ferragliolo o da altri l'economia civile esclude la possibilità del deragliamento camorrista e mafioso in generale quindi bisogna lavorare su questa dorsale Daniela sicuramente ne è consapevole e annuiva mentre tu parlavi Daniela a proposito appunto delle sottovalutazioni della strada da percorrere dell'impegno richiesto che è un impegno tanto vasto come l'ha descritto Marco Tarquinio secondo te che cos'è che ancora manca perché insomma ce lo ricordano i sacrifici di Falcone di Borsellino le mafie possono e devono essere sconfitte sicuramente manca una consapevolezza a 360 gradi manca la consapevolezza di quelle persone che continuano a voltare la testa dall'altro lato per indifferenza ma probabilmente anche per paura o perché ritengono che questo argomento questa tematica non appartenga loro appartenga non so agli addetti ai lavori quindi che ne so agli organi inquirenti alla magistratura alle istituzioni ecco io penso che manchi tra le persone comuni che che camminano nelle strade delle nostre città dei nostri paesi la coscienza che insieme si possa fare tantissimo molto di più di quello che ci rendiamo conto se solo fossimo tutti insieme le mafie sarebbero già morte sarebbero già sconfitte in alcuni luoghi tipo per esempio la mia terra foggia non sarebbero affatto cresciute invece purtroppo nella sottovalutazione nel silenzio nell'indifferenza sono state nutrite perché poi alla fine ci sono gli interessi come è stato detto più volte anche qui da voi in studio sono nutrite da interessi forti di persone che se ne avvantaggiano e ovviamente non utilizzano le mafie solo per la loro capacità di violenza ma anche per la capacità di penetrazione e di convinzione e quindi a mio parere una consapevolezza generale una capacità di sentirsi parte non solo del problema ma anche della speranza è quello che auspichiamo bellissima chiusa essere parte della speranza insomma anche come un aspicio per questa nuova giornata nazionale io ringrazio Daniela Marconi ringrazio il direttore Marco Tarquino che sono stati con noi vi ricordo l'appuntamento questa sera in seconda serata con il documentario l'altra parola di Don Peppe Diana e poi c'è la possibilità anche di rivederlo domenica 24 marzo alle 12.50 vi ricordo anche per rivedere questa puntata la nostra app Play 2000 grazie a tutti noi siamo qui come sapete dal lunedì al venerdì alle 15.15 grazie